Bella gang, intanto volevo ringraziarvi per aver interagito così tanto con il centesimo post che è il post che ha ricevuto più like, più commenti e resto salvato da più persone. Prima di dirvi la mia sull'argomento Poghi e Piramidi, ci tenevo a dire che ciò che ne seguirà sarà solo la mia personale idea, l'idea di una persona che le ha vissute in maniera ridotta negli ultimi anni e di conseguenza le ha sempre viste nei video e sentito raccontare. Ma ciò non toglie che uno non possa esprimere la propria idea o affrontare comunque l'argomento. Personalmente mi trovo d'accordo con voi quando si parla del fatto che si toglie un po' l'anima del number one e forse anche un po' l'anima di quello che è la cultura italiana. Però la trovo comunque una pratica pericolosa, rischiosa, ma la cosa più stupida è il puntare il dito contro chi non permette di fare questa cosa. Noi non siamo solo quello, non siamo solo una cazzo di piramide, un cazzo di poco, noi siamo molto di più. E il soffermarsi solo su quella cosa, restando anche, se volete, fossilizzati su quella cosa, quindi senza andare oltre, ha, secondo il mio punto di vista, anche, diciamo, fermato un po' la crescita di questo movimento ed è il motivo per il quale ci ritroviamo nella situazione di oggi, secondo me. Non è ovviamente solo questa la motivazione, questo è poco ma sicuro. Però, come racconta anche il buon Balli nel suo libro, Sbrangkabba Gang, la piramide, scusate, la sala 2 è la sala imperiale, quindi fare la piramide portava alla declamazione dell'imperatore della serata, ovvero colui che sarebbe riuscito a toccare il soffitto. Il problema è che, dal mio punto di vista, nel corso degli anni questa pratica si sia evoluta o si è arrivata alcune volte ad essere violenza pura, gratuita, senza nessun motivo, senza nessuna logica. Basti pensare a un sacco di video che si possono trovare su YouTube di pochi e piramidi del number dove c'è gente che salta sulla schiena delle persone, chi col gesso, col braccio ingessato, si lancia e lo tira in testa alle persone. Dal mio punto di vista questo è stupido, è primitivo, è ignorante, perché tolto il fatto che ci vadano a finire di mezzo magari persone che non c'entrano niente, ma trascendo questo discorso perché uno, conoscendo la situazione, magari si mette a bordo pista, non si mette in mezzo, ma poi ci descrive come persone aggressive, violente, che non gli interessa niente della musica, ma noi non siamo, cioè non è vero, non è così, lo sapete benissimo. Forse è anche colpa nostra che non siamo riusciti a trasmettere ciò che DJ e festival trasmettono a noi. Quindi, tutto sommato, non mi trovo in disaccordo con il video, quindi nel momento in cui spengono la musica se si poga, perché han cercato di farlo capire parecchie volte nel corso degli anni. Non si capisce, ama gli estremi, estremi, rimedi, mi viene da dire. Anche perché, ragazzi, mettiamoci nei panni di un locale, tra tutte le responsabilità che può avere che si deve assumere, un locale si deve pure assumere la responsabilità di non far ammazzare i cristiani in mezzo alla pista, o comunque che nessuno si faccia male. E a sto punto, se posso evitare di farglielo fare, io lo evito. Anche perché, ripeto, ragazzi, non siamo solo quello. Quindi non soffermiamoci su lei, che merda. Non so se avete visto i commenti di quel video su YouTube. Sono una fracca di insulti al number di quegli anni, all'organizzazione, si va a ripescare momenti passati. Questo è un altro grosso problema di questa cultura, che si è rimasti fossilizzati al passato. Non si riesce ad andare avanti e dal mio punto di vista la vecchia guardia, quindi parlo di gente degli anni 90, primi anni 2000, anziché far conoscere, aiutare a crescere, a non ricommettere gli stessi errori del passato alle nuove generazioni, gli puntano il dito, vanno contro, si mettono di traverso. E questo, secondo me, è un'altra motivazione per il quale questo movimento non è mai cresciuto o sta facendo veramente fatica. Di produssere italiani ne abbiamo un sacco, di etichette italiane, ahimè, purtroppo stanno un po' svanendo. Però comportarsi così, dal mio punto di vista, non è molto corretto. Detto questo, spero di non aver fatto incazzare la vecchia guardia o i Warriors. Ma ragazzi, è solo il mio personale pensiero. Anzi, spero che ne possa nascere una discussione in merito a questo, un confronto e si possa giungere a una conclusione comune. Bella gang, ci vediamo alla prossima.